Allora carichiamo la partita da dove ci eravamo lasciati Ci eravamo lasciati alla stazione di polizia dove avevamo incontrato il... Tipo là della polizia, aspetta mo che dovevamo fare però, dammi un attimo Indaga, parla? Immagino che dobbiamo... Ah sì, dobbiamo parlare con il tipo che era indagato dell'omicidio Quindi giustamente dobbiamo un attimino Buonasera, buonasera, buon diavolo, buonasera Eeeh... come detto ci eravamo lasciati che Dovevamo comunque continuare ad indagare Eravamo qui con il soggettone La politica delle bande nere, la ricostruzione del caso e la vittima Sono tutti dialoghi importanti Quindi partiamo con la politica delle bande nere Questa organizzazione Lei viene considerato un moderato all'interno del partito Perché? Perché al contrario di molti dei miei colleghi non discrimino per razza, religione o sesso Ma per semplice merito E questo merito viene definito all'esame Patterson Inventato da noi più di 20 anni fa Ok, abbiamo ottenuto informazioni sull'esame in questione Vediamo cosa ci dice Ogni cittadino di Nova Polemos è obbligato ogni 5 anni a svolgere un test chiamato esame Patterson All'interno di questo test vengono poste molteplici domande che servono a comprendere il quotiente intellettivo E le capacità di ogni singolo individuo L'ottenimento di un punteggio elevato permette numerosi vantaggi Tra cui posizioni lavorative migliori La possibilità di poter condividere liberamente i propri pensieri online E l'accesso alle strutture mediche in maniera totalmente gratuita Esistono numerosi istituti che aiutano a prepararsi all'esame all'interno della città E sono normalmente frequentati dagli anziani Che spesso sono anche coloro che hanno una maggior difficoltà a superare il test Quindi c'è molto controllo sotto questo aspetto Oddio, diciamo che l'accesso alle strutture mediche in maniera totalmente gratuita Per quelli più intelligenti, insomma L'accesso a internet, insomma Che leggi certe troiate che scrivono i giovani E non solo di oggi Che forse l'accesso a internet a chi ha un quotiente intellettivo alto Potrebbe anche andar bene, potrebbe anche andar bene Ah, l'esame Patterson È per caso quella prova in cui Oltre alle capacità individuali Si riesce a intuire anche il guadagno La provenienza E anche lo schieramento politico Mi ascolti, signor Foley Pensare di poter condividere le ricchezze di Nova Polemos Con tutti è pura fantascienza L'immigrazione incontrollata La scarsa formazione e la voce del popolo ignorante Sono le ragioni per cui questa città rischia il collasso Nova Polemos si è costruita sull'ambizione Non permetterò che dei parassiti nulla facenti Distruggano il nostro piccolo paradiso Comincio a credere che desiderate soltanto creare Tanti piccoli fantocci che seguano le vostre direttive Sfruttando la formazione come indottrinamento Potrà anche non condividere le nostre idee, detective Ma le ricordo che il suo futuro è legato al mio Se io cado, lei verrà giù con me Quindi le consiglio di mettere una museruola alla sua anima da cane rabbioso Effettivamente è lui che ci ha ingaggiato Quindi tutto sommato dobbiamo un attimino Stare dalla sua parte Insomma, noi cerchiamo comunque di risolvere il caso Ricordandoci anche che c'erano dei rimandi al passato del nostro foley Quindi diciamo che dobbiamo un attimino Vedere la situazione anche di cosa si tratta Allora, sempre sportiveggianti Buon diavolo, sempre sportiveggianti Signor Baker, aver bisogno di sentire la sua versione dei fatti Provi a raccontarmi cosa è successo la sera del crimine E cerchi di essere il più preciso possibile Alicia mi aveva contattato pochi giorni prima Diceva che avrebbe parlato di noi alla stampa Se non l'avessi mantenuta per tutta la vita Ha proposto di incontrarci a Treasury Park Per discutere dei termini dell'accordo dal vivo E io ho accettato senza... Sono arrivato puntualmente all'appuntamento con lei La mia intenzione era quella di chiuderla con questa storia una volta per tutte Ma quando sono arrivato lì Lei era già stata legata a quell'albero e uccisa Le ho urlato contro, sperando fosse ancora viva In preda al panico ho provato ad estrarre quella maledetta freccia Poco dopo sono stato assalito alle spalle da qualcuno Che è riuscito a ferirmi ad una mano con un coltello Mentre cercavo di difendermi In quel momento ho provato a fuggire Ma pochi passi dopo sono stato spinto contro una panchina Dopo quell'impatto sono svenuto Convinto che sarei morto Mentre perdevo esenze ho sentito un urlo Forse di ragazza E poi non ho visto più nulla Un urlo di ragazza C'è un'interferenza Mi scusi Intanto io ringrazio Fabio per la donazione Grazie mille a Fabio Schneider per la donation Ciò Ale ti seguo con una coppa di gelato sportiveggiante alla Marena No questo non me lo dovevi dire Perché adesso mi hai fatto venire voglia di gelato Anche a me Non si fa Non mi dite questo Grazie per la donation Ma non mi fate venire voglia di cibarie Grazie mille Fabio Grazie mille per la donation Quando mi sono svegliato dieci minuti dopo Eravamo rimasti soltanto io e il cadaver Il mio assalitore sembrava essere scomparso Ma che Approfittando del momento sono riuscito a fuggire A chiamare i soccorsi Il resto della storia la conosce Chiediamo anche un po' della vittima Che è la sua amante Oddio in realtà in linea teorica Quando le persone ci mentono Noi dovremmo vedere la faccia di quella specie di mostro Che avevamo notato anche l'altra L'altra volta Intanto vedo che Joe86Best ha esteso l'abbonamento Ricevuto il regalo da Renjin Quindi non so se uscirà il pop-up Comunque Joe nel caso Magari ricondividi la sub Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ah ok ok Potrebbe parlarmi del suo rapporto con Alicia Alicia Era una ragazza molto giovane in Genua Fin troppo in Genua Vediamo anche un pochino Allora non si è mai troppo giovani per morire Eh vabbè Allora Tasei cercava Nel senso Alicia è una ragazza profondamente impulsiva ed emotiva Nonostante il suo carattere dolce e materno Il suo profondo disappunto nei confronti della politica del paese Col tempo La resa schiva e diffidente nei confronti di tutti coloro che non conosce Biografia Figlia di un pittore e di una modesta farmacista La ragazza non è mai riuscita a compiere gli studi legali Alla regia che sognava fin da bambina Legati alla regia che sognava fin da bambina E per questo ha deciso di interrompere totalmente il suo corso di studi Dopo aver conseguito il diploma Attualmente Alicia compie lavori saltuari Sognando di poter sfondare nel mondo del cinema Invece Invece no Grazie mille a Dennis Donzel per la resub per l'undicesimo mese Grazie mille Dennis Manca un mesetto e scatta l'anniversario Grazie di cuore Grazie di cuore Eh non so se potevamo cliccarci sulla faccia in realtà Aveva l'animo dell'artista Diceva di voler studiare regia Ma non aveva i soldi per potersi permettere una scuola Qui a Nova Polemos Andava sempre in giro a filmare i luoghi E la gente con una vecchia telecamera di almeno 50 anni fa Sperando di farsi un nome e diventare qualcuno Una ragazza con un indole del genere Aveva deciso di frequentare il capo delle bande nere Infatti sembra un po' strano Visto che era un po' ribelle anche La carne è debole L'ambizione non nasce mai dalla purezza Lei era una bella ragazza E io potevo darle quello che voleva Il resto può immaginarselo C'è qualcosa che non va a detective Ho notato un particolare molto interessante mentre stava parlando Che cosa intende? Mi ha parlato del caso, del suo partito e della vittima Eppure durante i suoi discorsi ha sempre evitato di mettere in mezzo Uno degli attori più importanti di tutta questa immensa farsa E non credo proprio che sia un caso Non capisco di cosa sta parlando La persona di cui ha sempre evitato di parlare è Allora, allora Eh Sì, in linea teorica Immagino della Della tipa Abigail Ma posso La stessa persona che sta testimoniando contro di lei Abigail? Cosa c'entra lei in tutto questo? Dovrebbe dirmelo lei, non io Cosa sta cercando di insinuare? Si, vedete che esce il faccione Ah, qua è proprio diventato Sta dicendo Sta mentendo spudoratamente Abigail sta testimoniando contro di me Perché diavolo dovrei difenderla? È la mia vita ad essere in pericolo Non la sua E il fatto che abbia pentito Proprio come sospettavo Baker sta mentendo E la maschera lo dimostra Prima di interrogarlo ulteriormente Scoprire la verità Però ho bisogno di altre prove Su Abigail E Alicia Prove che potrei trovare Parlando con sua moglie Forse dovrei anche tornare ad aggiornare Hera Perdoni le mie insinuazioni Signor Baker Probabilmente mi sono spinto troppo oltre Cos'è questa umiltà improvvisa Signor Foley Comunque non si preoccupi Se ancora ha bisogno di me Potrà trovarmi qui Cerchi solo di non metterci troppo A scoprire la verità O qualsiasi altra cosa Sia in grado di scagionarmi Allora Per smarscherare Baker Aver bisogno di altre prove Potrai ottenerle Investigando nei luoghi Che hai sbloccato Interrogando altri personaggi Come detto Dobbiamo andare ad aggiornare Hera La nostra assistente Che si trova A Foley Investigation Qui abbiamo la casa di Baker Quindi possiamo andare a parlare Con la moglie Commissariato ci siamo Qui è dove abbiamo investigato Vabbè Andiamo a parlare Ad aggiornare la nostra collega Signori Vediamo che Che ci dice Quella sta sempre a suonare piano Giustamente No non è vero Sei tornato? Vabbè La voce della femmina Fammo uguale Vabbè De pazienza Spero non ti dispiaccia Se ho messo un po' di musica Magari la facciamo un po' più Pere pepere Ricordo questa canzone L'hai composta Quando abbiamo Aperto lo studio Sì la composi Sperando di non dimenticare L'emozione Che provai Quando mi resi conto Di aver creato Qualcosa di mio E ora che rischiamo Di perdere tutto Il ricordo di quei momenti E tutto quello che mi rimane Quando ripenso a quei giorni Mi rendo conto Che Davvero Che siamo Davvero diventati mostri Che avevamo promesso Di distruggere Era Va tutto bene Sì è solo che Ora che sappiamo Che Pandora È tornata So che la promessa Che mi hai fatto In merito Al non voler scarcerare Baker Ha perso totalmente Di valore La tua espressione Mentre indagavi A Treasury Park Me l'ha confermato Francamente Il solo pensiero Di vivere Di nuovo Quei giorni Di follia Mi spaventa Molto di più Di Pandora E della possibilità Di perdere tutto Guarda che razza Di persone Stiamo cercando Di proteggere Volantino Delle bande nere Vediamo il volantino Un volantino Di propaganda Raffigurante Il volto di Baker Sul retro Sono presenti Numerose frasi Inerenti Al rispetto Alla famiglia Al senso dell'onore E all'unità Di Nova Polemos I volantini Delle bande nere Sono sempre stati Caratterizzati Da tinte cupe Mirano a scatenare Le paure Insite In ogni abitante Allora Capisco che tu ti muova Per il nostro bene Ma quando arriverà Il momento Penso a cosa potresti causare Salvando quell'uomo Non scherzo Quando dico Che la tua decisione Potrebbe cambiare Per sempre Il futuro Di questa città Prenderemo la decisione Insieme E come ti ho sempre detto Non permetterò Che nessuno di loro Riesca a farti del male Io non ho paura Di morire Maldred Io ho paura Di perdere te L'unico demone Che ha avuto il coraggio Di starmi accanto Quando avrebbe potuto Lasciarmi Morire sulla strada Era Hai una visione Distorta Di alla mia persona Lo sai ragazza Sei sempre il solito idiota Comunque sia Che ne dici Di aggiornarmi Su tutto quello Che è successo Siediti Che ci vorrà un po' Ci ci vuole un po' Ci ci vuole un po' Giorniamo la signora Ma ci vuole un po' Grazie mille Reddy Grazie mille a Reddy Per la sottoscrizione Al canale Per il primo mese Benvenuto Tra i subscribers Reddy Grazie di cuore Per il supporto E benvenuto Benvenuto Spero sia il primo Di tanti mesi In mia compagnia Grazie per la sub E così anche Baker Sta mentendo Già E ho bisogno Di altre prove Per poterlo spingere A dirmi Come sono andate Realmente le cose Bene Se hai bisogno Di aiuto Sono qui per te I dialoghi con Eora Si sbloccano Man mano Che le indagini Procedono Torna da lei Se ti trovi Bloccato Hai bisogno di aiuto Allora In linea teorica Non è che abbiamo Bisogno di aiuto Dovremmo andare Semplicemente A parlare Con la moglie Di Baker No Non devo indagare Parla Li possiamo chiedere qualcosa La maschera di Baker E il guanto Vabbè comunque Parlare non costa niente Nel senso La maschera di Baker Chiediamo Per quale motivo Baker dovrebbe evitare Di dirci la verità Dopotutto è stato Proprio lui Ad ingaggiarci Non ne sono ancora sicuro Ma è probabile Che stia nascondendo Qualcosa riguardo Ad Abigail Anna Baker Potrebbe essere La soluzione A gran parte Dei nostri problemi Dopotutto è la sorella Della testimone oculare E la moglie Del nostro cliente Hai già provato A parlare con lei No stavamo andando In realtà però va bene Chiediamo anche del guanto Sì questi penso Che siano degli aiuti Effettivamente Già da adesso Per quanto riguarda La questione del guanto Ti atteggi sempre A uomo di mondo Ma alla fine Hai un cuore d'oro Che intendi Sapevi che il guanto Avrebbe potuto distruggerlo Distruggere per sempre La carriera di Freya Ed è per questo Che non l'hai presentato A David Quella del guanto È una questione aperta E francamente Voglio evitare Di farmi altri nemici Tutto qui Vabbè Andiamo a parlare Con la moglie Del Signor Baker Quindi Andiamo qua Casa Baker Dai Vediamo Vediamo un pochino Signori Chiediamo alla moglie Se c'ha Qualche intrallazzo Insomma Se Ci può dire qualcosa Sulla sorella Che ha fatto da testimone Ha sgamato il marito Che Faceva cose Wow Immaginavo che a Baker Piacesse vivere nel lusso Ma ancora una volta Il mio Megalomane preferito È riuscito a sorprendermi Mazzate signora Chi l'ha fatta entrare In casa mia Oh Lei deve essere Anna Baker Io la chiamo Anna Anche se è Anna La sua domestica Mi ha fatto entrare Io sono Mordered Foley Piacere gara Non serve che si presenti Il suo modo di vestire Sciatto E questa costante Puzza di tabacco Mi fanno capire Che lei è uno dei tanti Che vuole intervistarmi Sperando di infangare Ulteriormente Il nome di mio marito Voi giornalisti Siete soltanto Di parassiti Che si nutrono Della sofferenza Di coloro Che hanno creato Un impero Col sudore Della propria fronte Eh questa cia Voce più per e pepere Ancora di più Ancora di più Guardi Non sono un maledetto giornalista Sono il detective Che è stato ingaggiato Da suo marito Non per dire Non per dire Mh mio marito Ha contattato un detective È perché Io non ne sapevo niente Come sospettavo Becker Le ha nascosto tutto Lasciava Questo è un pensiero suo Senta signora Dove esserci lei Qui a doppiare Non faccia poco La spiritosa L'hanno tenuta All'oscuro Per proteggerla Signora E ora sono qui Perché il suo aiuto Potrebbe rivelarsi Indispensabile E come dovrei fare Per aiutarla Si limiti a rispondere A qualche domanda Per ora Allora Sua Sua moglie Sua moglie Sua sorella Se crede Che suo marito Si è innocente Perché Abigail Sta testimoniando Contro di lui Che razze di domande Sono Probabilmente Qualcuno L'avrà fatto arrivare Lì con l'inganno Sapendo del rapporto Che c'era Tra mia sorella E Alicia Le due ragazze Erano molto amiche Molto più Di quanto Possa immaginare Probabilmente Alicia Era l'unica Ancora in grado Di far sorridere A Abigail Quindi c'è Un intrallazzo Clamoroso Qua signore E chiediamo anche Della vittima L'amante L'amica di quella Eccetera Cosa saprebbe dirmi Su Alicia Art Oh Quel povero Angelo Alicia era molto amica Di Abigail Mia sorella Erano entrambe Delle artiste E sognavano Di girare film Insieme Ma come Povero Angelo Se il marito Col marito Si entrallazzava Comunque signor Faccia lei La coppia aperta Probabilmente Veniva spesso A casa nostra Ed era probabilmente L'unica persona In grado di tirare Su di morale La mia amata Abigail Eppure il marito Gli tirava su qualcosa Però lascia fare Il mio buon Richard Se ne era accorto E ha cominciato A supportare I lavori Della tenera Alicia Si che supportava Sperando In un suo futuro Radioso Ovviamente Ovviamente Qualche malalingua Afferma Che avesse Un rapporto Sentimentale Con mio marito Ma sono soltanto Gelosi Della sua bontà D'altronde Non si può pretendere Che bestie simili Siano in grado Di concepire Atti di altruismo Così elevati E infatti Qualche maledetto verme L'ha uccisa E ora il mio povero caro E costretto a dormire In mezzo a tutti Quei maledetti Lupi Nessuna maschera Sul suo volto Questa donna Crede davvero Che suo marito Le sia sempre Stato fedele Vabbè guarda Che collana C'ha Lei che gli frega Insomma Che razza di lavaggio Del cervello Le ha fatto Per creare Una visione Della realtà Così distorta Comunque Richard Baker Chiediamone anche Giustamente del marito Che insomma La faccia del nostro Investigatore È un attimo presa Grazie mille A Lizen Per la 3 sub Per il tredicesimo mese Grazie mille Lizen Grazie mille Per questi 13 mesi Grazie di supporto Grazie di cuore Grazie mille Il mio amato Richard È sempre stato un uomo Fuori dal suo tempo Forte Coraggioso E altruista Al contrario di tutte Quelle serpi Delle bande nere Lui ha sempre optato Per la pace E l'uguaglianza Lottando per i diritti Di tutti i cittadini La cosa più patetica È che gran parte Della polizia Sembra essersi schierata Contro di lui Pensa che siano stati I suoi colleghi Ad incastrarlo Ovviamente Chi altri potrebbe Volere ostacolare Un uomo Tanto buono Eh poveraccio Guarda Ricerchiamo delle prove Signora Guardi per poter aiutare Baker Ho bisogno di poter Investigare liberamente In casa sua Non ci vorrà molto Mi lasci Assolutamente no Mio marito è innocente E lei vuole soltanto Infrangere il suo nome Torturando la mia Povera anima Lo ammetta Sono stati quegli animali Di Pierce E Finley A mandarla da me Guardi Non ho idea Di chi siano Queste due persone Signora Sono i maggiori Avversari di mio marito Quelli ipocriti Millantano la pace Ma sognano di prendere Il suo posto Sto solo Perdendo tempo Devo trovare il modo Di convincerla A lasciarmi Indagare in casa sua La chiamata Al marito Se può fa Era potrebbe avere Qualche idea Al riguardo È sempre stata Molto più brava Di me A convincere Le persone Quindi devo chiamare Era Ma posso fare Una chiamata Al telefono No eh Signora Torno subito Vado a parlare Con la mia assistente Un paio di isolati Più in là Torno Torno Tra poco Eh signori Ci dobbiamo Arraggiare Con il doppiaggio Con lo studio Di doppiaggio Che c'è qui Quello che Passa la casa La signora Si è andata Appisolare Quindi devo fare Doppio Doppio turno Di doppiaggio Qui Scusate Senta Signora Era Signora Era No che indaga Ho sbagliato Parla Anna Anna Vediamo 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 se troviamo Qualcosa Che possiamo Utilizzare A nostro favore Allora Signora Guardi Io le mostro Qualcosa Eh Che io mostro Magari 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 Signora Guardi Suo marito È un salto Nel vuoto Ma forse Vale la pena Tentare Vabbè Noi proviamo Tutto Che ne so Riconosce Questo volantino Certo Che lo riconosco È quello Utilizzato Per la propaganda Del partito Di Esattamente Sul retro Si trovano parole Altisonanti Come rispetto Onore Unione E orgoglio Tuttavia Mi pare di capire Che molti dei membri Delle bande nere Non seguono minimamente Questi concetti Lei ha affermato Più volte Che suo marito Ha molti nemici All'interno del partito Addirittura Nel corpo di polizia E quindi Mi dica Signora Ha mai pensato Alla possibilità Che quelle stesse persone Possano voler far del male Anche a lei Cosa Allora vogliono davvero Uccidere anche me Non posso scartare Questa ipotesi Se non mi lascerà Indagare liberamente Anche la sua vita Sarà in pericolo Questo lo capisce Vero Forse hai ragione D'accordo Le concedo Carta bianca Ma la prego Non lasci Che quelle persone Mi facciano del male Questa povera donna È l'ombra di se stessa Forse dovrei dirle La verità Riguardo al marito O forse dovrei Semplicemente Tranquillizzarle Evitando che faccia Gesti troppo azzardati La seconda D'accordo Ma prima dovrebbe sapere Che Momento di Suitspunch Tranquillizziamola Nascondendole la verità Dai Stasignora È una mezza rincoglionita Tutto sommato Dai Poi qualcuno Io dirà Ma perché dobbiamo Essere noi gli stronzi Suo marito Mi manda a dirle Che non vede l'ora Di poterla riabbracciare Guardi Quello sciocco Continua a pensare a me Nonostante la sua situazione Grazie detective Lei è davvero Un uomo di grande cuore Lascia fare Lascia fare Anche dal grande portafogli Perché suo marito Mi deve dare Un sacco di soldi Se lo cacciamo De prigione Questo è da Sottolineare E Povera donna Povera donna Condannata a vivere In una prigione Di cristallo Fatta di falsità E di sentimenti artificiali Probabilmente La verità Le avrebbe fatto Troppo male Anche se forse L'avrebbe aiutata A orientarsi meglio In questo incubo Comunque Ora sarà meglio Indagare Tac Allora Noi Indaghiamo A partire Da Da qua Se l'artista Voleva raffigurare Il disagio Beh ci è riuscito Bene Bene Solo Baker Poteva avere Il coraggio Di avere Qualcosa Di così Pacchiano E di cattivo gusto Vediamo anche Il caminetto Questo invece È una finezza Camini a Nova Polemos Adesso ho davvero Visto tutto Fa caldino Che dice Non oso neanche Immaginare Quanto abbiano pagato Per avere qualcosa Di simile Vediamo pure qua Poltrona Cosa non darei Per passare una settimana Seduto su una poltrona Come questa A chi lo dici A chi lo dici Portone Sembra più L'ingresso Sembra più l'ingresso Di una cripta Che una porta Vagli a capire I gusti dei ricchi Allora aspetta Qua non c'è rimasto Nient'altro Apparentemente No Quindi Una seggiolina Non vedevo Sede simili da anni Non pensavo Andassero ancora di moda Tra gli snob Di Nova Polemos Vediamo tra i cassetti Cassetti Contenenti Scartoffi O vecchi articoli Di giornale Legati alle bande nere Immagino che il computer Sia quello che mantiene Una foto rovesciata Sembra ritrarre Alicia e Abigail Quelle due Sembravano essere Davvero amiche E allora Perché la foto Era messa In quella posizione E che ne so La moglie Le cose Qua È tutto Foto Inizialmente Trovata rovesciata Che ritrae L'amicizia Presente Tra la vittima E la testimone Oculare Alicia sembra essere Ritratta Con un vecchio Modello di videocamera Che a quanto pare Si portava Sempre appresso Non c'è fiore Più bello Di quello Divorato Dall'ambizione Allora Allora Vediamo anche Al pc Un vecchio Modello di computer Portatile È ancora funzionante Possiamo Spiccionare Sta spiccionando Non pare Eserci niente Di particolarmente Interessante Ma posso dire Con certezza Che si tratta Del computer Di abigail Visto l'enorme Quantitativo Un attimo E queste Cosa sono Ci sono decine Di mail criptate Inviate pochi giorni Prima della sera Dell'omicidio Verso un indirizzo Denominato Non lo so Per quel poco Che conosco di greco Credo significhi Tartaro O qualcosa del genere Va bene Tartaro Lo accettiamo Grazie mille Zietto Grazie mille Per i 14 mesi Di sub Grazie di cuore Grazie mille Zietto Grazie di cuore Grazie Come diavolo Ha fatto Abigail A criptare Inviare mail simili Senza che Il sistema Di sicurezza informatica Le bloccasse Vediamo Allora Fin dalla sua Prima fondazione Nova Polemos Utilizza un sistema Informatico E di navigazione Web Obbligatorio Per la città Chiamato Coligula Ogni cittadino Che ha passato L'esame Patterson Ha diretto Ad utilizzarlo E ogni contenuto Creato Visualizzato Condiviso Viene analizzato Dalla polizia E dai servizi Segreti Della città Questo sistema Viene accettato Dai cittadini Per via Della velocità Del servizio web Che è totalmente Gratuito E per via Del forte senso Di sicurezza Che è in grado Di generare All'interno Di una popolazione Che si considera Elitaria E fuori dal mondo E che quindi Teme lo straniero E tutto ciò Che potrebbe spezzare Lo status quo E' importante notare Che l'importazione O l'utilizzo Di sistemi operativi Diversi da Caligula Se avete Android O siete morti Farei meglio A chiederlo Direttamente Alla diretta Interessata Non appena Avrò chiuso Il discorso Con Baker Allora E' ottenuto Vecchio chip dati Contiene Numerose mail Criptate Inviate pochi giorni Prima dell'omicidio Ad un indirizzo Denominato Ok Da quello Che parrebbe Essere il computer Di Abigail I vecchi sistemi Di archiviazione Sono l'unica L'unico modo Rimasto Per trasferire Informazione A nuova polemo Senza correre Rischio di incorrere All'occhio del sistema A Caligula E Dove la becchiamo Poi a Abigail Vabbè Ho trovato Molto meno Di quanto sperassi Immagino che Questo posto Sia già stato Ripulito Prima del mio arrivo Comunque credo Di avere già Abbastanza prove Per poter smascherare Lo squalido Teatrino Di Baker Quindi Quindi Noi qui In linea teorica Abbiamo concluso La La fiera Possiamo Possiamo Allora Io vado a parlare Un attimo Con Anna Vediamo che ci dice Anna Era Sì immagino di sì Terrible Perché ci sono Riferimenti Alla mitologia Effettivamente Nel gioco Quindi è possibile Possibile Senta No Non ci serve Niente Come non detto Ciao Cara Treasury Park Eh no Non me lo ricordo Onestamente Anche in God of War A memoria È quella che è Signori Ah no Qua no E che ne so Andiamo al commissariato È l'unico posto Che c'è rimasto Grazie mille Black Marcus Grazie mille Per questi 15 mesi Di supporto Grazie di cuore Grazie di cuore Grazie mille Allora Vediamo che Li possiamo dire Al buon uomo Senta Mi dica la verità E famola finita Fiamo così Signor Baker È arrivato il momento Che lei mi dica la verità Su Abigail E sulla sera In cui è stata uccisa Alicia Ne abbiamo già parlato Non ho visto Abigail Quella sera E le ho già dato La mia versione Dei fatti Riguardo l'omicidio Sta a mettere Sta a mettere Spudoratamente Allora Modalità Living Nightmare Durante la modalità Living Nightmare Dovrai smascherare Le menzogne di coloro Con cui stai parlando Presentando prove O fatti raccolti Durante le tue indagini Gli occhi saranno I tentativi Se presenterai Le prove sbagliate Per tre volte Durante l'intero dialogo Sarà game over Medita bene Prima di sceglierle Se non credi Di avere la prova adatta Puoi uscire Dalla modalità Living Nightmare Selezionando X Nella schermata Di selezione Delle prove In linea teorica Non abbiamo fatto tutto Nel senso Lei mi sta spudoratamente Mentendo Mio caro signor Baker Ma partiamo Dalle basi Quando mi ha parlato Della vittima Non mi ha mai spiegato Come avete fatto A conoscervi Mi contattò Con la scusa Di una banale intervista Alicia Non ha mai avuto Nessun tipo di rapporto Con la mia famiglia Ah davvero Sarà così Sconosciuta la famiglia Come riesce A spiegarmi Questa prova La foto La foto c'è La foto c'è E fino a qui Ci siamo Sembra piuttosto Sembrano piuttosto Affiatate Per essere due sconosciute Non le pare Signor Baker Aia È diventato ancora più bestione Immagino come fosse contenta Abigail Quando ha scoperto Che la sua cara amica Aveva rapporti intimi Con il marito Di sua sorella E Allora Alicia veniva spesso A casa nostra Era molto amica Di Abigail E stavano cercando Di fare una sorta Di documentario Una sera Si avvicinò a me Con la scusa Di volermi far vedere Il suo lavoro E Tac E gli ha mostrato Un'altra cosa Beh Da quel giorno Abigail Ha cominciato Ad odiarmi In maniera Ancora più accesa Infatti Il suo intervento Come testimone Non mi ha minimamente Sorpreso Fin dall'inizio Se desiderava Umiliarmi Ci è riuscito Ma non riesco Comunque a capire Dove voglia arrivare Con le sue Farneticazioni Un passo alla volta Torniamo a parlare Del suo scontro Con il killer Lei ha affermato Che prima di svenire Ha sentito Un urlo Di una ragazza Esattamente Cosa c'è di strano L'assassino Avrebbe potuto Ucciderla In qualsiasi momento Invece ha preferito Scappare Senza una ragione Apparente Tutto questo Sarebbe assurdo A meno Che lui Fosse già Fuggito prima Non avesse Riconosciuto La voce Non fosse Abigail Allora Se è femminile Non avesse Riconosciuto La voce Fosse già Fuggito prima Oddio Una di queste due Ci potrebbe anche stare Non avesse Riconosciuto La voce Fammo così Occhio Non avesse Riconosciuto La persona Che stava Urlando E la voce Di quella persona Era quella Di Vabbè Abigail Per forza Ok Eh Quell'altra Era morta Quindi Nel senso Ci abbiamo beccato Attenzione Cosa La sua reazione Vale più di mille parole Vedi Pian piano Gliela stiamo a togliere La maschera Si sta squagliando Si sta squagliando Bene così Maledizione D'accordo Non c'è mai stata Nessuna voce Nessuno svenimento Durante la lotta Ho afferrato il mio taser E l'ho paralizzato Temporaneamente Riuscendo a fuggire Non l'ho mai detto A nessuno Perché Quegli aggeggi Sono illegali A Nova Polemos E avrei rischiato L'incarcerazione A prescindere Andiamo Può fare meglio Di così Le sue bugie Stanno perdendo Di mordente Lei non ha mai Utilizzato un taser Contro l'assassino E questa prova Lo dimostra Allora potrebbe esserci Il guanto Questo E quale di queste prove Potrebbe essere A favore Eh oddio Sì Il guanto Ci potrebbe stare Come cosa Però Il guanto Cosa comporta Nel non utilizzare Un taser Così come la ferita Cosa comporta Nel non utilizzare Il taser Così come il coltello Insomma Ci proviamo a caso Sul serio Questa sarebbe La sua prova Schiacciante Aia Ci ha sciegato Un occhio La polizia afferma Che lei ha lottato Con il suo assalitore Tenendo Fermo Con la mano sinistra Perché l'altra mano Era stata Gravemente ferita Poco prima Quindi usare Qualsiasi tipo di arma Sarebbe stato Totalmente impossibile Io non Queste sue dimostrazioni Di panico Non fanno altro Che avvalorare Ulteriormente Le mie tesi Signor Baker Dopo che lei È stato scagliato Contro la panchina Big A l'ha urlato Correndo verso di voi Distogliendo L'attenzione Dell'assassino E permettendole Di scappare Quella ragazza Le ha salvato La vita Non le si può Proprio nascondere Nulla Non è vero Detective E se no Che detective Scusa Smascherato Signori Smascherato Anche questa cosa È figa Il fatto di smascherare Proprio con la maschera Molto Molto figa È vero L'assassino Pareva conoscerla Si sono messi a parlare Sottovoce Ma lei sembrava Assolutamente terrorizzata Dalla sua presenza Subito dopo Sono corso via Come un codardo Lasciandola nelle grinfie Di quel Mostro Non so come facesse A conoscerlo Ma sono sicuro Che lei Stia testimoniando Contro di me Perché il killer La sta ricattando Quindi Pensa che Quella serial Sera Il killer Vi abbia Lasciati Entrambi in vita Solo per poter Sfruttare Abigail In tribunale Ne sono quasi sicuro Quindi Vi siete rivolti Alla nostra agenzia Perché speravate Che io arrestassi La persona sbagliata Salvando la sua vita E quella di Abigail Maledizione Quella ragazza È stata manovrata Dal killer Devo andare a parlare Subito con lei Un momento Foley Ci tengo a precisare Che se dovesse succedere Qualcosa ad Abigail Lei è un uomo morto A quanto pare La realtà dei fatti Pare essere Molto più complessa Del previsto Non è che se faceva Pura la sorella Da moglie Per dire Devo parlare con Abigail In fretta Specialmente riguardo Una mail Che ho trovato A casa sua Forse ancora Con Freya Probabilmente Dovrei cercare lei Vabbè caro Noi sedamo Noi sedamo E Freya Non so se sta ancora A Treasury Park Vediamo Mi sta grabando Signori Secondo me Qua stanno A fai Trinare Che cose Non lo so Per la prima volta Sono davvero felice Di vederti Freya Ancora tu? Che diavolo vuoi da me? Dov'è Abigail? Devo parlare Subito con lei Vuoi forse Scusarti Per essere scappato In maniera Patetica Dopo averla vista? Finiscila Con l'idiozia Ascoltami Cosa? Stai scherzando Vero? No Abigail conosce L'assassino E probabilmente Sta venendo Ricattata Hai parlato anche Di alcune mail Giusto? E per caso I file con te? Sì Ma pensi Di essere in grado Di decriptarle Sappiamo persino Quante volte I cittadini Vanno al cesso Ogni giorno Figurate Se un paio Di stupide mail Possono essere Un problema Beh Allora mi Affido a te Mi raccomando Non ho consegnato Il guanto Quindi per non metterti Nella merda Molte do pure le prove Mi raccomando Trattamele bene Seriamente Le hai salvate Qui sopra? Che ho salvate? Non devi assolutamente Mostrare questa prova Ai tuoi colleghi Nemmeno quelli Di cui ti fidi di più Visto il loro odio Verso Baker Potrebbero farle sparire E noi non riusciremo mai A scoprire la verità Magari Dovamo fare la govia Però Non mi fido di te Ma se può Farti sentire meglio Mi fido ancor meno Dei miei colleghi Chiamerò Abigail E la manderò Al tuo ufficio Cerca solo Di non farmi pentire Della mia decisione Se scopri qualcosa Chiamami E cerca di non fare Cose avventate Mi dispiace Non accetto consigli Da un criminale A presto Per quanto possa essere Testarda quella donna È l'unica Di cui possa realmente Fidarmi In questa città Ma come c'è La signorina era Ma scusi Grazie mille Vaporotto Grazie mille a Vaporotto Per la sottoscrizione Al canale Per il sesto mese Ti si segue Anche da New York Oh grande Vaporotto Buona permanenza Allora Un saluto Un saluto Grazie mille Per i sei mesi Di sub Grazie di cuore Molto figa New York Divertiti Anche se Continuo a domandarmi Come abbia fatto A non trovare Quel maledetto guanto In ogni caso Ora non è il momento Di pensare a cose simili Devo tornare in ufficio E porre fine A questa farsa Torniamo in ufficio A parlare con La Abigail Che ha terza incomoda Non lo so Vediamo Cerchiamo di capire Grazie mille Joshi Grazie mille Buon lavoro Allora Buon lavoro Freya Mi ha detto Di venire Qua urgentemente Potrei sapere Cosa diavolo Volete da me Buonasera Buonasera anche a lei Signora Abigail Visto che hai saltato I convenevoli Andrò anche io Dritto al punto Grazie Joshi Grazie mille Per il terzo mese Di sub Grazie mille Grazie mille Grazie di cuore E di nuovo Buon lavoro Magari Nel tre lavori Ogni tanto Una pausetta E fare una capatina In live So che hai salvato Vediamo di procedere Vediamo di procedere con ordine Baker Ammesso che lo hai salvato La sera dell'omicidio Inoltre sappiamo che L'assassino Ti ha visto in faccia Eppure tu sei ancora qui Pronta a testimoniare Contro il nostro cliente Mi è venuto un attimo Un flash Ma ne che zitti zitti A moglie Fa tanto la coionazza E invece È quella più dritta Di tutti E che ne so Se toglie Dalle palle L'amante Il marito E se buschi i soldi No vabbè Comunque Vabbè Inoltre sappiamo Che l'assassino Ti ha visto in Ho pensato un attimo Ma ne che Comunque Vabbè Inoltre sappiamo Che l'assassino Ti ha visto in faccia Eppure tu sei ancora qui Pronta a testimoniare Contro il nostro cliente Per cui Buffo che ti abbia Lasciato andare Senza problemi Dopo che La Lo ha interrotto Mentre stava cercando Di uccidere Baker Non è vero? Vuole forse insinuare Che io conosca L'assassino Si sveglia Sei sveglia ragazzina Eh infatti si Non aveva la maschera Però la moglie Forse è così Coyonazza Barra intelligente Che riesce a Percularci Non lo so Eh Oh si Certo che conosco L'assassino È Richard Baker Il verme con cui vivo Da anni Stronzate Stai testimoniando Contro Baker Perché Vuoi che tua sorella Io provo Provo a seguire Questa Linea di pensiero Vediamo Per quanto Baker Si è un verme Mia sorella Lo ama davvero Quindi la smetta Di fare insinuazioni Così stupide Allora no Niente Ha autopato E Vediamo di procedere Sera dell'omicidio Non ti sappiamo Che l'assassino Che sta in faccia Vabbè ripartiamo Buffo Ok Ok Boom Solo per avere Accusato in questo modo Questa è davvero Bella Orca Stamattoppata E brutto Vabbè ce n'è rimasta Una Quindi signori Diciamo che Il vero sassino Ti sta minacciando E sembrava troppo banale Perché era In la linea di pensiero Base Cioè nel senso Minacciando Le sembra Che mi stia Comportando Da ragazza Minacciata Da un killer Senza pietà Puoi cercare Di nasconderti Quanto vuoi E la maschera A parlare Al posto suo Ti prego Abigail Aiutaci a catturare Quell'uomo Se non vuoi Fidarti di noi Almeno fidati di Freya Non vuoi vendicare La morte della tua amica Desideri davvero Che quel pazzo Continui ad uccidere Tutto cominciò Diversi mesi fa La prima volta Che l'assassino Si mise in contatto Con me Alisia Si spacciò Per un famoso Regista Interessato Ai nostri lavori Sembrava L'unica persona In grado Di capire I nostri bisogni E come noi Odiava le bande nere Lo stato attuale Della città Ci contava Contattava solo Tramite circuiti Mail criptati In modo che la polizia Non potesse vedere Il materiale Che ci scambiavamo Che tipo di materiale Di tutto Ma prevalentemente Erano video e foto Ma in realtà Lui sembrava Particolarmente interessato Ai video di Alisia Cosa? Perché proprio i suoi? Probabilmente Perché erano quasi Tutti inerenti a Baker Lei lo stava frequentando Da tempo Ma in realtà Non ne sapevo Nulla Aspetta un momento Poco fa È affermato Che quell'uomo Pareva essere L'unica persona In grado di capire I nostri bisogni O mi sbaglio? No Non si sbaglia E mi pare anche Di capire Che detesti Baker Lo odio Con tutto il cuore Quell'uomo Ha rovinato La mia vita E quella Dei cittadini Di questo paese E nonostante questo Gli permetti Di avere rapporti Intimi Con la tua Migliore amica Per questo È sposato Camoia E con la sorella Bastarda Abbastanza Assurdo Non trovi? Bastarda Io Non sapevo Del suo rapporto Con Baker Lo sapevi E come E questo perché C'è stata tua Convincia Aveva anche tu Rapporti con Baker Volevi farlo divorziare Da tua sorella Signori Qua Ehm Allora Diciamo Che poteva essere Stata lei A convincerla Perché effettivamente Voleva fare la regista E ha detto Magari Te presento Il marito Di mia sorella Che ti può Appizzare qua Per fare Regista C'era anche L'altra opzione Che avevano fatto Una cosa a tre Perché tutti quanti Ci volevano guadagnare qualcosa E questa pure ci sta Perché standogli sul cazzo Comunque magari Però facciamo questo Dai Al massimo ci rimettiamo Il terzo occhio Ci abbiamo rimesso Il terzo occhio No non è vero Ci abbiamo beccato E' usato il rapporto Di Alisa Per raccogliere soldi Con il ricatto In modo da poter Dar vita Ai vostri sogni Distruggendo al contempo La sua reputazione E la sera dell'omicidio Tu eri presente Fin dall'inizio Perché volevi Incontrare Pandora Uccidere Baker Riprendere l'incontro Tra Alisa e Baker Scusate Questa è la base Queste sono le basi Con la telecamera E distruggere La sua reputazione Una volta per tutte Probabilmente Ah si c'è Eh no no Perché ci sto io con la telecamera Si qua c'è la signorina Hera Quella che parlava Eh perché c'è stata La telecamera E' vero Non l'avevo notato E Probabilmente hai parlato A Pandora Del vostro piano E lui ha agito Per uccidere la ragazza Ha aspettato la sera Dell'incontro E ha usato il rapporto Tra la tua amica E Baker Per ricreare alla perfezione Il mito di Apollo E Daphne Lei era una bellissima artista La ninfa perfetta Mentre Baker Era il presuntuoso Dio del sole Che credea di poter Controllare il mondo E l'amore Con uno schiocco di dita Nella visione di Pandora L'unico modo per Alisa Di fuggire Dalle grinfie di Baker Era quello di fonderla All'albero Trasformandola nel mito Era Non smetterai mai Di stupirmi Noi volevamo solo Dare vita Ai nostri sogni Staccate Alisia Se solo fossi riuscita Ad arrivare prima In che senso Quella sera ho provato A contattarla Ore prima Dell'appuntamento Ma non mi ha mai risposto Al telefono Mi sono preoccupata Per lei E quindi sono Corsa subito Al parco Ma quando sono arrivata Lei era già stata uccisa E l'assassino Era lì Ad aspettarmi Nascosto dietro L'albero di Alisia Era un uomo alto Indossava un grosso Cappotto nero Robusto E una maschera Dalle sembianze Di lupo Un uomo Ma perché una maschera Da lupo Non lo so Ma appena mi ha visto È corso verso di me Mi ha afferrato il braccio E mi ha trascinato Davanti al corpo di Alisia A quel punto Si è avvicinato al mio orecchio E mi ha detto che Se non avessi filmato L'arrivo di Baker Mi avrebbe fatto fare La stessa fine di Alisia Oddio Stai scherzando vero? Quel pazzo suicida Si lascerebbe filmare Mentre assale qualcuno? Non ne ho idea Ma in quel momento Era davvero terrorizzata Quindi mi sono nascosta Lì vicino E ho acceso la telecamera Aspettando Baker Dopo che il killer Ha assalito quel bastardo Quasi distinto Ho cominciato ad urlare Avvicinandomi a loro E distruggendo la mia copertura Non so perché l'ho fatto In quel momento Sembrava quasi Che il mio corpo Si muovesse da solo Mentre correvo verso di loro L'assassino si è avvicinato Colpendomi al volto E strappandomi la videocamera di mano Dando la possibilità A Baker di scappare Dopo averlo visto fuggire Ha cominciato a ridere In una maniera Quasi spaventosa Poi mi ha afferrato Per i capelli Ha afferrato i capelli E E Mi ha costretto A dire ad Alicia Che sarebbe andato Tutto bene Mentre le accarezzavo Il volto Con il dorso della mano Tutto questo Mentre lui mi filmava Con la nostra videocamera Poco dopo Mi ha lasciato andare Dicendomi che presto Avrei avuto sue notizie Dopo essere tornato a casa Mi ha contattato di nuovo Via mail Chiedendomi di testimoniare E viandomi in allegato Il video Questo è in modo da poter Preservare quello che lui Ha definito Un piacevole ricordo A Abigail Mi dispiace così tanto Aspetta un attimo Tu hai filmato Hai filmato Di quella sera Perché diavolo Non ce l'hai detto prima Mordred Che diavolo ti prende Questa ragazza Ha passato l'inferno Ho con me una copia Di quel filmato Potete farne ciò che volete Bruciatelo Datelo alla polizia O vendetelo a qualcun altro Non mi interessa Hai portato una copia Del video Hai portato una copia Del video Quindi sapevi che Avremmo scoperto tutto In realtà Non vedevo l'ora Di potermi togliere Questo peso Anche se ora Dovrò nascondermi Finché non Prenderete quel pazzo Esaminiamo il video Cioè il file Poi non so se ci faccio Vede pure il video Un chip contenente Il video fatto girare Da Pandora La sera del crimine Il suo contenuto Potrebbe sollevare Baker da tutte le accuse Il futuro di una nazione È nascosto nel passato E Vabbè poi dovremmo Vederlo Spergio Faccio vedere Che ne so Qualcosa Allora Vai da Frey Alla stazione di polizia Lì sarai al sicuro Un'ultima cosa Prima di andare Sappiate che io Non sono l'unica persona Ad essere ricattata Dall'assassino Cosa E se ne va Così Di cosa stava parlando Focalizziamoci su una cosa Per volta Signori Non siamo multitasking Presentando questo video Potremmo scoraggiarlo Spostando l'attenzione Della polizia Verso il vero assassino Inoltre potremmo anche Riscuotere quanto promesso Salvando la nostra agenzia E riprendendo Una vita normale Ma se lo facessimo Le bande nere Vincerebbero le prossime elezioni Rischieremo di portare Di nuovo il terrore Nella città Rovinando la vita Di centinaia di migliaia Di persone Sacrificare il nostro benessere E il nostro futuro Per l'eventuale ritorno Di un partito estremista O salvare la vita Di migliaia Di sconosciuti Condannando per sempre Tutto quello Per cui abbiamo lottato E' arrivato il momento Di scegliere Nascondi il video Consegna il video Se consegniamo il video Baker è libero E quindi vincerà le elezioni E le bande nere Molto rigorose Naziste Fasciste Andranno Al governo Oppure nascondiamo Per il benessere Del popolo Baker andrà in prigione Noi perderemo La causa E andremo In malora Quindi Signori Nascondi il video E questo è quanto Eh mica possiamo No Le bande nere Fuori dalle palle Signori Forse avevi ragione Tu era Che senso avrebbe Tornare in attività Se poi sarebbe Una città del merda In una città Dominata da loro Eh Nasconderemo quel video Appena chiuso la faccenda Con Pandora Ce ne andremo Solo io e te In Brasil A Cuba Dove pare Mordred Grazie Don't worry In ogni caso Continuo ad essere turbata Dalle ultime parole Di Abigail Telefono di qualcuno Probabilmente Una mail di Freya Voi che avreste fatto Vabbè Tanto si può anche Cioè potete fare Opzioni diverse Giustamente Multi Multi Molti 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 stories Va Varie Scusi Non c'è scritto altro Che cosa significa Che sia una qualche sorta Di indirizzo Aspetta un momento Mordred Maledizione Perché non ci siamo arrivati prima Dobbiamo salvarla Mordred Dobbiamo No Tu rimani qui Io vado all'indirizzo Teniamoci in contatto Aspetta Nuova destinazione disponibile Varyagian 47 E andiamo a Varyagian 47 Do sta Qua Varyagian Non so come si pronuncia Però va bene Attenzione arriviamo con la camicia E la pistola Signori Che razza di posto è questo E cos'è questo maledetto odore Con quale molleggio Merda In che razza di casino Sei andato a ficcarti ragazza Che ne so Indaghiamo Non possiamo fare altro C'è delle luci Non funziona Oddio Un pochino funzionano E c'è Buon compleanno Lil sunshine Ma cosa diavolo Parrebbe essere una foto Di Freya La parte sinistra Della foto Sembra essere stata Sfreggiata Happy Bird Lil sunshine Freya Che cosa sta succedendo C'è anche qualcosa Qua dietro Parrebbe una Fata Ah ok ok Vabbè Aspetta Ci sarebbero Delle cose Anche qui dietro In realtà Ma Non so se possiamo Posso rispiccionare qua Ah L'11 Un gigantesco numero 11 Che abbia un qualche significato Ok Chi è questo ragazzo Gentile signora Freya O forse dovrei chiamarla Flynn Si è tagliato il pisello Freya Sono lieto di sapere Che ha deciso di cominciare A indagare su di me E sui miei piccoli Capolavori Per ringraziarla Della sua premura Ho deciso di ricambiare il favore Scoprendo che nonostante Suo padre abbia fatto di tutto Per nascondere tutto quello Che la riguarda Prima del suo ingresso In accademia Io sono riuscito a trovare Delle splendide foto Che la ritraggono Prima del suo Cambiamento Nel caso decidesse Di continuare le sue indagini Sarà mia premura Inviare tutte le sue vecchie foto Di famiglia A tutti i suoi superiori Ma non si preoccupi Dopotutto la polizia Di questa città È famosa per la sua tolleranza Non è vero Con amore P Pandora Quindi ecco Chi era l'altra persona Ricattata La signorina Freya O il signor Freya Pandora è riuscito a scoprire Che Freya era un ragazzo Poco prima di entrare in accademia Allora Bigel si riferiva a questo Quando ha detto Che non era l'unica Ad essere ricattata L'area di questo posto Comincia a darmi alla testa Sì ogni tanto Ci stanno spreshate Con quello Con la maschera Vediamo tutte le fotine Vediamo tutte le fotine Sulla foto c'è una piccola Di Tascalia che crea Che credo sia legata Ad una vecchia favola Che farai se verremo Al paragone Tu con un figlio E io con tanta prole Alla scrofa Rispose in quattro parole Mamma leonessa Un solo Maleone C'era una piccola Di Tascalia sotto la foto I lupi sono sempre disposti A divorare i propri figli Piuttosto che presentare La loro vergogna Al branco Ah e vabbè Giustamente cerca di spingere Freya La foto Sembra ritrarre Freya Al suo ingresso In pulizia La parte inferiore Della foto È bruciata La Tascalia sotto la foto Recita Recita Infastidito Dalla copulazione Di due serpenti Tiresia L'indovino Uccise il serpente Femmina Tramutandosi Poi in una donna E cominciando A sperimentare Tutti i piaceri Che quel nuovo corpo Poteva dargli C'è pure una bambola Con una lettera Abbastanza inquietante Ma va bene La vedere Oddio sto un po' così Quel figlio di un cane Si sta prendendo gioco di me Devo trovare Freya E alla svelta C'è una bambola Una lugubre bambola Che indossa vestiti maschili Sembra portare una busta Contenente un messaggio Credo che questo messaggio Sia collegato in qualche modo Alla cassaforte Che è questa qui Ha ottenuto messaggio Della bambola Vediamo che ci dice La bambola Cinque sono le cifre Che apriranno Le porte della verità Le prime due cifre Sono il numero Del tradimento Impresso sulla colonna Portante Undici Quindi Uno e uno La terza cifra È il totale Dei figli Cancellati Dalla vanità Ok vabbè poi ci rivediamo Le foto La quarta è la somma Delle maschere Della vergogna Che sono due L'ultima è il marchio Impresso Sul volto Di Tiresia Quindi ci manca Allora abbiamo Quante cifre sono Scusa Cinque cifre Uno Uno Ci manca Questa era quella Dei lupi Dei lupi Della vergogna Due Marchio Impresso Tiresia Movediamo Era questa Quella di Tiresia Fatemi vedere Otto Quindi ci manca Quella Acqua Che farai Se verremo Paragone Tu con un figlio E io con tanta prole La scopera rispose In quattro parole Mamma leonessa Aspetta Ridammi un attimo Il messaggio Che mi manca No non devo Mi fai leggere Un attimo Le prove Allora Uno Uno Terza cifra Il totale Dei figli Cancellati Dalla vanità Due Otto Uno Uno Poi due Otto I figli Della vanità Dov'è che parlava Di sta cosa Proprio sono sempre Disposto Piuttosto che Prendere la vergogna Al branco Quindi questo è due I figli Della E sarà questo E qua è l'unico Cancellato Magari I figli Della vanità In realtà Sono tipo Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Due Non lo so Proviamo Signori Quindi sarebbe Uno Uno Cinque Due 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 Otto Ora il contrario Uno Due Cinque Otto Allora Aspettate Che Ciao Ciao La retta Allora Prima Due Cifre Ci stiamo La terza E il totale Dei figli Cancellati Alla vanità Veniva Prima il Due No Prima Quello La quarta E la Sono Due Ci stanno Otto Ci sta Dite che È Quattro E non È Cinque Proviamo No Vedi che È Questo Tu con Tuo figlio Con tanta Pro Proviamo Pure Questo Che ne so Uno Uno Otto Yes Era quello Cancellato Grazie Mille A YoYo Per la Sottoscrizione Al canale Per il quarto Mese Sono quattro Mesi Lascia Fa Un grande Abbraccio Grazie Mille YoYo Grazie Mille Per questi Quattro Mesi Di Sub Ci siamo La casa Forte È Aperta Per Inizia Un fiocco Rappresentante Una nuova Nascita Per metà Azzurro E per metà Rosa Al suo interno È presente Una chiave Chiave Dall'aspetto Futuristico In grado Di aprire La strada Verso Freya Le porte Del paradiso Si aprono La rinascita È completa Per quale motivo Quel pazzo Ha creato Questa messa In scena Cosa voleva Dimostrare Sta succedendo Di nuovo Devo correre Alla porta Prima che Finisca Con l'impazzire Del tutto Se Dato Ci siamo Finalmente Fa che Sia viva Fa che Tutti I miei Sforzi Non siano Stati Inutili Inutili Oh Sei tu Detective Io e la mia Principessa Ti stavamo Aspettando Ammetto Che sono Quasi Emozionato Dopo Tutto Questo Tempo Finalmente Riusciamo Ad Incontrarci Di Persona Anche Io Non Vedevo Lord L'ora Di farti Un buco In testa Lascia andare La ragazza Ora Non preoccuparti Per lei Ha soltanto Respirato Il gas Di questo Posto Troppo A lungo Lo stesso Gas Che hai Respirato Tu Per essere Precis Ma questo L'avevi Già Capito Da solo Vero Tanta La faccia Cambia Che Devo lo sta Succedendo Perché Le maschere Del suo Volto Continuano A Cambiare Risparmi Ammi Le tue Stronzate Pandora Fai Un solo Passo E sei un uomo Morto Oh no Io continuerò A vivere Ancora Molto A lungo E sarai Proprio Tu A garantire La mia Incolumità Detective Cosa Sono disarmato E distante Da lei Eppure Non mi ha Ancora Sparato Evidentemente Capito Da solo Che non Mi sarai Mai Avvicinato A te Se non Avessi La possibilità Di ucciderla In qualsiasi Momento Anche a Distanza Comunque Non devi Preoccuparti Non ho Nessuna Intenzione Di farlo Se vi Ho portato Qui È solo Perché Voglio Che tu Riesca A dimostrarmi Qualcosa Cosa Dovrei Dimostrare Ad un fallito Che si diverte Ad uccidere Delle ragazze Per soddisfare Le sue Perversioni Tutti Dicono Che non Provi Sensi Di colpa Per le persone Che hai Fatto Condannare Perché Sei un Mostro Ma io Credo Che la Realtà Dei Fatti Sia Molto Molto Diversa Il motivo Per cui Riesci Ancora A dormire I sonni Tranquilli È legato Al fatto Che non Hai visto Quella Gente Agonizzare Davanti Ai tuoi Occhi Il giorno Della loro Morte Tu eri In ufficio Godendoti Il successo Assieme Alla polizia Quella scrofa Che chiami Collega Con quale Cattiveria Ma oggi Grazie a me Potrai goderti Tutto lo spettacolo In prima fila A meno che Tu non decida Di lasciarmi andare Di tua spontanea Volontà Sapevo Che fossi pazzo Ma non Fino a questo Punto Io Dovrei Lasciarti andare E cosa Mi garantirà Che non La Ucciderai Comunque Oh è proprio Questo Il divertente Non Guardami bene In faccia Ti sembro forse Il tipo di persona Che può essere Manovrata Da un figlio Di puttana Qualsiasi Ma io Non ho nessuna Intenzione Di manovrarti Lascerò Che sia Tu A decidere Sparami E le urla Di questa Ragazza Ti tormenteranno Per sempre Nei tuoi incubi Lasciami andare Vivrai Sapendo Che oggi Avresti potuto Fermarmi Ma non L'hai fatto La vita La vita Verme Per quella Della Ragazza A te La scelta Eh signori C'è anche da dire Che questo Comunque Freya Polis Eccetera Però c'è da dire Che se lo lasciamo andare Questo Quante altre persone Potrebbe uccidere C'è da dire Anche se lo lasciamo andare Freya Che è una poliziotta Che ci direbbe E tu Ma è qua Quei serial Che Spara Signori Mo' vediamo se funziona Però non lo so Secondo me no Però Proprio come immaginavo Io e te Siamo davvero uguali Detective Anche perché abbiamo Sacrificato Baker Per il bene Della comunità Della community Non sacrifichiamo Freya Per il bene Della comunità Uccidendo un serial killer Scusate Ce l'ho fatta È la stessa cosa Se non avremmo usato Due pesi e due misure Ci sta Come Costanza Nel fatto di Cercare di Vabbè comunque Ce l'ho fatta Boh Vediamo Che è successo Freya Freya Riesci a sentirmi Dobbiamo andarcene Da qui immediatamente Mordred Sei tu Sì Sono io Lascia che ti liberi Da questo affare Salvata da un criminale Questa è davvero bella Grazie Foley Aia Ci siamo sacrificati Per la No siamo ancora Forse in fondo Mi sbagliavo su di te Ma tipo esplosa Freya Mordred Sei Sei vivo Che cosa è successo Dov'è Freya La vedi addosso Freya È Morta E ad ucciderla Sono stato io Capitolo 1 Gods and Monster Fine Signori Abbiamo finito Il primo capitolo Abbiamo finito Il primo capitolo E Spero che salvi così Così magari Poi ripartiamo dal secondo Le tue scelte Hai fatto la promessa Era Valutando la possibilità Di non aiutare Il partito delle bande nere Non hai Chiuso la chiamata Con Era Hai occultato Il guanto David Hai coperto La relazione di Baker Con Alicia Non hai consegnato il video Non hai consegnato il video di Baker Hai sparato A Pandora Ok E E questo è quanto Questo è il primo capitolo Vuoi salvare il gioco Assolutamente Sì Questo è il primo Di altri Che è continuare la partita Non adesso Non adesso Perché abbiamo concluso Il primo capitolo Quindi Eventualmente Se Vi garberà Io poi ve lo riporterò Sul secondo canale Si potrebbe proseguire Con il secondo capitolo Non ricordo Se in totali i capitoli Potrebbero essere tre E non vorrei sbagliarvi Non so se c'è ancora Qualche sviluppatore qui In quattro capitoli totali Ok Grazie mille Buon diablo Quindi come detto Saranno quattro capitoli In totali E Eventualmente Come detto Ci vediamo con Il secondo capitolo Vediamo un pochino Se vi garberà A me onestamente Non è dispiaciuto Per niente Quindi È molto intrigante È molto particolare È molto Diverso Diciamo dal solito Poi come sapete Io spippolo Tantissimi titoli Quindi Mi piace giocare Anche cose nuove Cose diverse Dal Dal solito Anche se una volta Questi titoli Andavano Molto di più Rispetto ad ora Sono titoli Che diciamo Sono Nel passato Videoludico Ce n'erano Molti di più Ed erano Apprezzatissimi Adesso siamo in un'epoca Dove magari Questo genere È un po' meno Apprezzato Si va con altre Tipologie Però È giusto Anche Spippolare Titoli Che Garbano Come genere Onestamente A me Ad esempio Mancano Un po' come Gli RTS Quanto mi mancano Gli RTS Alla Empire Earth Signori Va bene Comunque A parte Questa parentesi Io vi ringrazio Per aver seguito Questa live Ci salutiamo Ci vediamo Con le live Mercoledì Mercoledì Non so se ci facevamo Dragon Quest Builders O altro Vi faccio sapere Come sempre Su Instagram Come detto Poi questa live La riporto Nei prossimi giorni Sul secondo canale E E questo è quanto Questo è quanto Non vi perdete I video di domani Mi raccomando E niente ragazzi Grazie mille a tutti Per aver seguito La live In mia compagnia Spero che vi sia Garbato Questo primo Capitolo Sì ci sono tanti giochi Che stiamo facendo In live E che proseguiremo Don't worry Poi non tutti Li porteremo avanti In generale Tipo Dragon Quest Builders Ma un'altra live Ce la facciamo Perché abbiamo fatto Solo il prologo Però poi vediamo Quanto ancora La porteremo avanti Forager Un'altra live Ce la facciamo Perché abbiamo Solo scalfito La superficie Ed è infugnantissimo E niente Niente Come detto ragazzi Grazie mille a tutti Per il supporto Grazie mille ai subscribers E tutti quanti Ci vediamo Alla prossima Su Twitch Mercoledì Domani Sul canale YouTube Va bene Ciao cari Buon inizio settimana Ciao ciao Buonanotte Ciao 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 ciao